La testata online Le Sociologie, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento della Campania, ha organizzato la prima edizione del premio giornalistico Robert Ezra Park, Sociologi per la Comunicazione, che è stato consegnato sabato 30 aprile di quest'anno l'Ordine dei giornalisti della Campania. Hanno portato in saluto Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Franco Piccarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Sono stati gli interventi seguiti di Domenico Condurro, editorio della testata online Le Sociologie, Presidente dell'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Campania, Giuseppe Cotarelli, direttore responsabile della testata, Sergio Mantile, direttore editoriale della testata stessa e segretario dell'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Campania. Premiato il giornalista Maurizio Bolognetti. Ha moderato l'incontro Maurizio Vitiedo, responsabile della sezione arti visive della testata online Le Sociologie e consigliere dell'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Campania. Il premio consiste nell'opera Ricordando Robert Ezra Parca, tecnica mista su tela, realizzata dall'artista Maria Pia Daidone nel 2022 ed in una targa commemorativa.